Telequattro si conferma sempre di più quale amplificatore della voce dei triestini. Non solo durante Sveglia Trieste, il nostro seguitissimo programma di prima mattina, nel corso del quale arrivano decine di telefonate sui tanti problemi della nostra città, ma anche nelle ore successive della giornata, poiché il telefono della nostra redazione continua a squillare annunciando l'arrivo di nuove segnalazioni. L'ultima è giunta ieri pomeriggio da un telespettatore residente in via Italo Svevo, che ha chiamato Telequattro per denunciare il degrado del tratto stradale, compreso in particolare fra le torri d'Europa e l'incrocio con la via d'Alviano, e lungo il quale i residenti parcheggiano le proprie autovetture. Le immagini girate stamane si commentano da sole. Il marciapiede è a dir poco sconnesso o addirittura inesistente. Vi è una lunga ringhiera arrugginita e pericolosa, in quanto coperta dalla vegetazione, e anche i bottini delle immondizie sono di difficile accesso. E sono molti pedoni che percorrono questo tratto di strada per andare ad attendere alla fermata il bus della linea 8. Ecco quindi la pressante richiesta dei residenti rivolta attraverso Telequattro all'amministrazione comunale, quella di effettuare, in questa come in tante altre zone della città, un tempestivo intervento di manutenzione.